Ciao a tutti, mi chiamo Cristiano, sono uno studente di sapienza finanziaria. Ho conosciuto sapienza finanziaria a marzo del 2018, in un periodo in cui ero alla ricerca di un mestiere alternativo al mio, che mi potesse dare più libertà. Un giorno, mentre giravo su Facebook, vedi il video di Giulio Pasquini di presentazione della Trader Week. Il video era molto interessante, all'interno sono stati spiegati principi di trading, è stata fatta una approfondita presentazione delle piattaforme di trading, il tipo di approccio che un trader professionista deve avere in questa materia, ad esempio inserire lo stop loss ad ogni operazione, e alla fine del corso il mio interesse per questa materia era cresciuto a dismisura, tant'è che decisi di iscrivermi al corso Trader in 30 giorni. All'interno del corso Trader in 30 giorni, ho imparato l'analisi tecnica dei mercati, i principi di money management per l'esecuzione delle operazioni e degli investimenti, la psicologia che un trader professionista deve avere e l'approccio che deve avere per perseguire in maniera professionale questo lavoro, e infine è stato presentato il protocollo Strategen, finalizzato a realizzare delle strategie di investimento sui mercati finanziari in maniera totalmente autonoma, questo protocollo ti guida in maniera molto precisa per la realizzazione delle strategie tue personali. Alla fine del corso, fatto l'esame, ho iniziato a realizzare le mie strategie personali e attualmente opero sui mercati finanziari con delle strategie che ho elaborato personalmente e ho aperto un corto sulla piattaforma Swissquot, che è una piattaforma assolutamente buona e che non ti riserva delle sorprese, è un'ottima piattaforma. Attualmente collaboro ancora con Sapienza Finanziaria in un progetto di gestione patrimoniale di terzi, il rapporto con loro è un rapporto meraviglioso, sono delle persone eccezionali e consiglio a chiunque di frequentare questi corsi. Grazie a tutti, ciao!